Sono le marche del fascino discreto, dello charme inteso come lusso o pulenza delle strutture ricettive, ma come ospitalità fatta di dettagli e di attenzioni particolari, di tradizione e emozioni autentiche, quelle che attraggono i turisti del nord Europa, tanto da chiamarle nel catalogo di vendita della CTN, Charming Travel Network, le marche e le alternative alla Toscana. Questo in sintesi quello che è scaturito dall'incontro a Porto Novo con i titolari di 12 tour operator aderenti al network CTN in visita nella nostra regione fino al 27 di maggio. Hanno scelto infatti le marche per la loro convention annuale e per ammirare le bellezze della costa delle colline marchigiane per poi raccontarle alla loro clientela. Sì, sicuramente, inaspettatamente questa sembra essere una bella stagione, la domanda turistica sin dai primi mesi dell'anno è in forte aumento rispetto al passato, nonostante gli eventi che abbiamo vissuto, quindi i messaggi sono fortemente positivi. La risposta soprattutto di alcuni mercati, il mercato del nord Europa che apprezza la nostra terra è stata molto forte e la giornata che si sta aprendo oggi è ben augurale proprio per questo. Come dicevo i numeri sono positivi e questo ci incoraggia molto perché c'è stato molto timore da parte degli operatori. È normale che io sto parlando, facendo riferimento a un turismo blu, quindi un turismo legato alle spiagge e le difficoltà dei colleghi dell'entroterra le conosciamo tutti quanti. Però avevamo paura anche di ripercussioni sulla costa, invece sembra anzi che questo abbia sollecitato un'attenzione verso una terra comunque incontaminata, una terra autentica come quelle che sono le Marche. E soprattutto gli operatori esteri non mostrano particolare timore per quello che è successo, diversamente da forse un turismo più italiano che ne risente dei bombardamenti media quotidiani che vengono fatti su questo evento. Sicuramente oggi noi incontriamo a chiusura di un percorso partito dalla BIT quando abbiamo firmato un protocollo d'intesa con questi tour operator del nord Europa, dalla Germania all'Inghilterra, tutti, sono 12, per far sì che le Marche possano avere anche un mercato turistico di qualità, di un livello un po' più alto. Sicuramente le Marche hanno tutte le bellezze che possono essere attrattive per questi nostri concittadini internazionali del nord Europa e noi come Regione Marche abbiamo fortemente voluto questo percorso. Quindi tutti insieme, in questo momento ancora più che negli anni passati, vista anche le criticità che hanno colpito questi nostri territori e il sistema Marche dal punto di vista turistico, queste giornate e questi giorni servono per fare un ulteriore salto di qualità al nostro sistema della ricettività e della promozione turistica, quindi tutti insieme impegnati per valorizzare queste nostre bellezze e questi nostri territori. Noi abbiamo fatto visitare le bellezze perché poi sono tantissime ma loro hanno visto sia la parte costiera, quindi il mare, hanno visto le nostre colline meravigliose, hanno visto, oggi sono state alle Grotte dei Frassassi, hanno visto anche tutte le opportunità che le aree interne possono mettere a disposizione. In considerazione anche di grandi eventi culturali che noi anche quest'anno faremo con tutta una serie di mostre che avranno una rilevanza internazionale, quindi un pacchetto totalmente ampio e compiuto e credo, non voglio anticipare niente, credo che questo messaggio sia passato e l'obiettivo è che già dal 2018 questi tour operator, questi 12 tour operator possano dare un impulso e una valorizzazione al nostro turismo marchigiano. Nell'ambito dell'accordo di collaborazione anche l'organizzazione di educational tour e l'inserimento della nostra offerta turistica nei loro cataloghi di vendita attraverso una specifica progetto di marketing territoriale specifica per la destinazione Marche.